Dopo quattro sconfitte consecutive, l'Arezzo calcio femminile interrompe la serie negativa pareggiando 2-2 in casa del Cesena. L'avvio è difficoltoso per le Amaranto, al settimo vanno subito sotto con un gol di Cuciniello che su posizione sulla tre quarti dalla destra, in mezzo all'aria, sacca più in alto di tutte e batte di testa a Nardo. Le Amaranto rischiano poi di incassare la seconda rete al quattordicesimo sul tiro da fuori di Mac ribattuto dalla traversa. Al diciassettesimo un episodio rimette in partita le ragazze di Testini, Frigotto a terra e in aria Cagnina, l'arbitro indica il dischetto dagli 11 metri, non sbaglia Panayotu. Al trentanovesimo prosegue la rimonta Amaranto grazie ad un assolo di Cagnina. Nell'immediato rientro dall'intervallo il Cesena ristabilisce la parità con Secchi che anticipa tutte di testa a Battenardi sul primo palo. Il match scorre con occasioni d'ambole party. La più ghiotta in pieno recupero quando Cortese ha due passi da Frigotto calcia addosso all'estremo difensore Cesenate. Il match comunque si conclude sul 2-2, un buon punto per l'Arezzo calcio femminile che comunque resta a ridosso della zona retrocessione.